La mozione bocciata in Consiglio Comunale la scorsa estate non ha allentato l'impegno di Fratelli d'Italia per intitolare una via, una piazza o un luogo simbolo di Pesaro alla memoria di Norma Cossetto, studentessa universale estriana torturata, violentata e gettata in una foiba dai partigiani del maresciallo Tito nell'ottobre del 1943. Un impegno che negli ultimi mesi si è tradotto in una raccolta firme per ottenere un sentito omaggio alla memoria. Pensiamo che Pesaro debba rendere onore a questa martire che per rimanere italiana è stata praticamente trucidata nel peggior modo possibile e questo lo dobbiamo anche a tutti gli istriano dalmati che sono venuti nella nostra città e sono stati accolti da padre Damiani e ancora vivono, sia quelli ancora vivi di allora, sia i loro nipoti, i loro figli, ancora vivono nella nostra città e si sono adoperati per rendere la nostra città migliore. Ora Fratelli d'Italia porta i risultati della raccolta firme all'attenzione di Sindaco e Giunta Comunale. Tra le varie motivazioni per le quali veniva bocciata la mozione c'erano dei motivi tecnici, in particolare la richiesta doveva passare tramite Sindaco e Giunta e non più in Consiglio Comunale, anche se poi abbiamo visto che in altri casi sono stati percorsi diversi e sono state fatte cose diverse, ricordo Craxi, Giardini Arles, eccetera eccetera. e di conseguenza quando la mozione è stata bocciata io ho detto che avrei raccolto delle firme e comunque sono già oltre 100. Questo a comprovare che a Pesaro la cosa è sentita, che Pesaro vuole un'intitolazione di un luogo pubblico significativo a questa povera ragazza di 23 anni che è stata strappata alla vita in modo barbaro.